Ma l'hai visto? Ciao Ronald, come va? Sicuro che vada tutto bene, Ronald? Mi sembri un po' strano Mi sembra che ci sia qualcosa che non vada in te Ronald? Dove cacchio è andato? Ho recentemente aperto un ristorante, ha avuto molto successo, ma da un po' di anni ho una competizione E loro dicono che la competizione fa degli hamburger migliori dei miei Quindi ho deciso di infiltrarmi al ristorante di notte e rubargli la ricetta del Krabby Patty segreta Sto andando al McDonald's a rubargli la ricetta perché ha avuto più successo di me Oh santo cielo, va bene, proviamo a giocarci Tre vite, ci sono tre finali in questo gioco, ho sentito Oh mamma Per prendere gli oggetti premi G sono venuto con la mia vecchia Nessan La mia Nessan, che ne sa la mia Nessan Le sa tutte Aspetta, ma c'è qualcuno qui dentro, Ronald? Ronald? È sempre lì che aspetta Ora aperto 24 ore su 24 Io potrei far finta di essere un cliente, no? Sono un cliente, salve Ronald Come sta? Offrite Vabbè, me lo mangio Salve signor Ronald Due vite rimaste È come la granny Aperto 24 set Botte 24 set Dovevano scrivere Ma siamo usciti di senno E di senso No, no, Ronald No, Ronald Ora esce pure Questo è il mio spazio Ronald, questo è il mio spazio Schifoso Lurido, chiamo la pula Oh no, perché avete messo il contenitore Di bevande al posto della cabina telefonica No Ronald, no Ronald No, sono chiuso a muro invisibile Ronald ha pure questi poteri La guancia rossa Mi ha fatto la guancia rossa Brucia, brucia Brucia la città Ok, credo che Ronald A questo punto devo sbaliggiarti Dal punto segreto Sì, troverò altri modi Per far accassarti le gioie Ok, ma c'è un muro invisibile Oh 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 Ok, per adesso è libero Forse si è incastrato fuori Donald, dentro Cosa c'è scritto? Questa porta ha bisogno di una chiave Alt più F4 per aprire Vabbè, proviamo Fa mappa mappa Almeno così ho resettato le vite Guardate che il bel desktop ordinato che ho poi Ora devo fregarlo Devo andare per di qua Ora vado a prenderti la ricetta segreta Ronald È qui dentro La nasconde qui? Ah, posso nascondermi? Se arriva Ronald posso mettermi sotto i tavoli Dai Cosa? L'insalata Hai capito cosa usa? E si è pure messo una porta segreta Ronald No, sono in cucina Guarda quanti hamburger Così li faceva Ho bisogno di un piede di porco Questo ha bisogno di hamburger Questo hamburger ha bisogno di cipolla Questo ha bisogno di insalata Ok Ronald Stai lì E quindi questo ha bisogno di insalata Bomba Oh me Non entrare Bene, bene Non si è accorta È stupido Invece questo ha bisogno di carne Ma la carne è qua dentro Sicuramente Metti il tuo happy meal Ok Devo mettere l'happy meal per entrare Devo trovare l'happy meal Questo Aspetta Ho trovato il pezzo di carne Così abbiamo fatto il puzzle Il puzzle del 3 Burger King Ho detto una brutta parola Non devo nominare La concorrenza Potrei farlo arrabbiare No Mi hai visto Fermo Cacchio mi ha visto Ronaldinho Ronaldo CR78 Mamma mia Perché dovevano mettere un pagliaccio Meno male che l'hanno rimosso Avete notato che il Ronald Non c'è più al McDonald's Perché spaventava i bambini Una mascotte così inquietante Dovrebbe essere illegale Cammina sempre qui Stai buono Fin che la porta davanti Avrebbe Ok Vai 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 Perfetto Perfetto Scemo Scemo L'ho stillato Nella mia bocca Ora ho bisogno di Di un asse Devo uscire dal negozio Sicuramente È da qualche parte Stasse Posso scondermi sotto il tavolo Sì Simsalabim Vai Ronaldo Devo trovare il punto giusto Devo trovare un oggetto Per aprirgli i segreti Lurido Ronaldes E io ti chiudo dentro Boom Bene Guarda qua Ok Oh cacchio Oh cacchio Vai avanti vai avanti Va bene esco dal negozio Uscendo dal negozio sono libero Non è un problema per adesso Magari se cerco in giro Oh 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 Ronaldo Ho trovato la chiave Ciao Gabby mi hai trovato Sono molto contento Sì chiave dai Alleiamoci Guarda cosa ci mette nell'hamburger La sua ricetta fa schifo Usa strane sostanzine No Ronaldo No Ronaldo No Ronaldo No Ronaldo No Ronaldo Ti ho trovato Boom Barabum Oh Ronald Mani in alto Bitch Boom 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 Panino Panino alla porco cane La porchetta Finale 3 di 3 Ronaldo La peppina Fa il caffè Fa il caffè Con la marmellata Uno dei tre finali abbiamo tenuto Abbiamo devastato Ronald Prima che Ronald Facesse un panino Adesso dobbiamo però Aprire la porta segreta Ci sono tre finali Come abbiamo detto Dobbiamo trovare gli altri due Molto importante E lo sappiamo che lui è anche molto violento È violento Ronaldino È fatto così lui E adesso devo rifarmi anche tutti gli hamburger Ma prima di tutto dovrei trovare il piede di porco Non è che me lo son perso Allora qua abbiamo la chiave È fin qui tutto a posto La chiave l'abbiamo trovata Poi mi dice di interagire E se me ne andassi avanti E lasciassi questo posto Ah beh Il famosissimo c'è spuglio di blocco In mezzo alla strada Così le ha pensate tutte Le persone sono costrette a fermarsi al Bara pepare Bel madonna Ecco vai 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 Sto controllando se magari potesse essere qui Ma no Sto cercando in tutti i pori In tutti i laghi In tutti i monti In tutti Oh Mi sa che ho trovato il quarto finale ragazzi Cos'è quello? C'era qualcosa lì E niente Eeeh Ciuuuum Le zone Mamma marcio proprio Paga Paga Ok mi devo chiedere qui Perché questa porta lo sapevo Uuuuh Le fecis Chi le fece queste feci? Ma che schifo E io sto toccando questa roba? Fammi dire che entra qui È entrato qui Perfetto Ok non se ne è andato Ciao E mi ha slappato Quattro ore in bagno Quattro ore a guardare il muro Cioè lo vedi che è psicopatico? Lo vedi che è psicopatico? Dimmi che è rimasto No non mi ha neanche lasciato il piede di porco Eh sì adesso è niente Quando è in killing spree Quando è in killing spree Quando è nato così Allora sai che faccio? Sai che faccio? Facciamo la tattica di prima Ronald Facciamo la tattica che mi incastro qui Così ti incastri anche tu E così io posso andare a svaliggiarti il negozio Questo è il trucco Il trucco è un'anima per un'anima Lo baggo qui Ma lui rimarrà fermo qui dentro E adesso il negozio è libero E io posso svaliggiarli Casa Secondo me c'è un finale anche segreto Se muori tre volte Lo vedremo dopo Ma ormai sono muo No è entrato Stavolta è entrato No 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 ma aspetta ma ci sono due Sì però Sì però Sì però Ti chiudo la porta in bocca Chiudo la porta in bocca Boom Eh però Eh però Dammi il piede di porco E chiudimi la porta Dimmi che non sa che sono qui Mi sa che mi ha trovato ragazzi È la fine Forse si è distratto Dai Forse si è distratto Sbirciatina tattica Sbirciatina della vittoria Qui Non è più qui Non è più qui Ok Dobbiamo rimanere qui Dobbiamo aspettare che Eccolo Eccolo Appena entra lì dentro Posso andare per di là Sì Salabim No ma si è corto Non è possibile Vabbè C'ho la tattica C'ho la tattica Chiudo la porta Entro qua Posto Non lo sa Non lo sa Non lo sa che sono dentro Non lo sa che sono dentro Non lo sa Non lo sa Perfetto 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 Non entrare qui Non entrare qui Non entrare qui Non entrare qui No Ci siamo Dov'è Dammi qua Melma Entra Non ci sono Non ci sono Non ci sono Mamma mia È stupido È stupido È stupido Sono happy 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 Mil 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 Happy 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 Mil Happy Happy Mil Centa Gli ho fatto pure Mamma mia Ma sono io lo psicopatico Non è McDonald's Non è Ronald Sono io Gli ho pure fatto saltare in aria il negozio Cattivissimo C'era scritto qualcosa Ve lo mostrerò in editing Cosa c'era scritto Perché è partito subito al finale E niente ragazzi Adesso vado a prendermi tre sberle Ronald te lo sei meritato Puoi tirarvi tre sberle Dai Che vediamo il finale di Ronald Cattivo Qua cosa c'è scritto poi Ma Che incredibile è quello Che schifo Che schifo Sai che voi un sacco di volte mi inviate foto Il ristorante è il gabbiano d'oro Esistono tantissimi ristoranti Di mia appartenenza Ragazzi dai che presto vi faccio uscire i panini di Gabby Che saranno molto buoni Lui non è buono però Meno male che l'hanno levato va Sapete che io da bambino pensavo che fosse lui Effettivamente a fare i panini Per me era lui Mi è caduto un mito Cioè Mi è caduto il mondo addosso Quando ho scoperto che tu sei un pazzo psicopatico Che uccide i bambini Io non ci vedo Oh no ragazzi Oh no c'è il finale C'è il finale Violento Il finale violento di Ronald Che posa di brusco Oh mi spara pure Mi ha fucilato Mi ha fucilato E ora vendetta vera Mi tira una granata Senti scusa Si è vendicato Si è vendicato tantissimo Per avergli fatto saltare in aria Il negozio Però Non ha tutti i torti La colpa è mia Che sono andato a derubarlo Se fossi rimasto a casa mia Lui ha fiutato Le mie cattive intenzioni Ronald sarebbe innocente Finché Finché non gli tocchi La ricetta segreta Dello strano Dello strano Quando gli tocchi La ricetta segreta Violenza Oggi avevo fame Di andare al McDonald's Mi sa che posticipo A domani o dopo domani Dopo questo gioco Io vi ringrazio Per la visione di questo video E noi ci vediamo A prossime fantastiche Avventure serie Ciao ragazzi